Buongiorno, sono Massimo Vaccari dell'Ampi di Cavriago e per il 75esimo anniversario della liberazione vi parlerò del partigiano Livio Piccinini e leggerò alcuni brani tratti dal suo libro. Cresce a Cavriago in una famiglia povera negli anni duri e tribolati del fascismo, ciononostante la solidarietà e la condivisione sono aspetti fondamentali della comunità in cui vive. Non sapevo immaginarmi slegato da quella gente che con dignità e coraggio affrontava le asprezze della loro condizione. Tutte queste famiglie costituivano una comunità, qualcosa di unico in cui ero immerso e che ti dava tanto, ti aiutava a superare i problemi. Inizia giovanissimo a lavorare ma non tralascia la possibilità di continuare a studiare. Era un sacrificio. Dopo una giornata di lavoro, andare la sera a studiare, lavorare con batite e compasso, ma anche una straordinaria occasione per crescere culturalmente, per avvicinarsi all'arte, ampliare gli orizzonti della conoscenza ed acquisire nozioni sul disegno tecnico indispensabili per crescere professionalmente. All'età di 15 anni viene assunto alle officine reggiane. Il 28 luglio del 43 partecipa alla manifestazione contro la guerra e assiste all'eccidio perpetrato dai militari dove perdono la vita nove operai. Non si poteva credere che dei soldati italiani sparassero su cittadini inerni. È stata una scena incredibile. Al crepitare della mitraglia la gente cadeva a terra come birilli. Non capivo come mai si potesse sparare in quel modo contro gente che manifestava la sua voglia di pace. Sono rimasto lì, in piedi, fermo, allibito, quasi paralizzato. Ero incredibilmente illeso e intorno a me corpi straziati e tanto sangue. Non saprei dire come mi sia salvato. Non è nemmeno da credere. Ero proprio lì in prima fila assieme a coloro che caddero. A vent'anni nel 44, quando, appena arruolato militare, riesce a fuggire dalla caserma di Casale Monferrato ed evitare di finire nell'esercito repubblichino. Poco dopo, in estate, sale in montagna col fratello Onin e altri giovani di Carriago. Si unisce alle formazioni partigiane. Dopo un breve periodo del destramento, entra nell'istaccamento Beucci e inizia a partecipare ad azioni di sabotaggio e scontri armati, distinguendosi sempre per le sue doti di uomo intelligente, responsabile, pacato e attento. A seguito, di un attacco alla vettura del comandante antiribelli dell'Emilia, sarà decorato con la medaglia di bronzo al valor militare per il recupero di importanti documenti, tra i quali elenchi di informatori e spie al soldo dei nazi fascisti. Nel marzo del 45 partecipa all'importante operazione Tombola, organizzata dagli inglesi della quinta sezione del comando generale tedesco in Italia, a distanza a botteghe di Albinea, nelle ville Calvi e Rossi. Negli scontri a fuoco, nonostante il successo dell'operazione, rimangono uccisi tre parà inglesi e feriti il capitano Lees e il partigiano Gordon. Livio e altri compagni, con estremo senso di responsabilità, si adoperano per prestare soccorso e portare in salvo i feriti. Il 24 aprile del 45 i partigiani si preparano alla liberazione di Reggio e scendono dalla montagna. Ci fu anche il tempo per salutare le famiglie di Poiano che ci erano state vicine e con le quali avevamo familiarizzato, le donne in particolare che ci trattavano come figli. Un commiato commovente fu anche con le staffette, instancabili e fedeli, che avevano svolto per noi un lavoro ingrato, pericoloso e preziosissimo. Il loro ruolo non era mai stato di minor peso dei partigiani combattenti e in tanti frangenti avevano sfidato il nemico con un coraggio di cui tanti di noi potevano solo avere invidia. Quella notte gli zaini erano più leggeri, il passo più sciolto. Abbandonavamo i nostri monti, il fiume che tante volte ci aveva difeso e che più volte avevamo attraversato. Il nostro pensiero andava alla famiglia che ci aspettava, agli amici, al futuro che vedevamo luminoso, pieno di speranze, ma non poteva non andare ai compagni di lotta che lasciavamo su quei monti, alle amicizie maturate lassù, alle donne e agli uomini della montagna che lasciavamo alla loro vita dura. Finalmente Reggio è liberata, ma la gioia di Livio per la fine della guerra e la riconquistata libertà è offuscata dall'uccisione dell'amico partigiano Piero Mora e di altri nuovi amici di Cavriago nei giorni immediatamente precedenti il 25 aprile. Nel dopoguerra la predisposizione ai rapporti umani, all'ascolto, alla capacità di mediare, il suo estremo senso di responsabilità e di sensibilità alle problematiche sociali lo portano a ricoprire importanti incarichi nell'ambito sindacale e nel mondo cooperativo, mettendo così a frutto le sue qualità e doti umane. Concludo con una riflessione di Livio, fatta in occasione di un incontro con degli studenti. Dopo tanti mesi passati insieme ai miei compagni, condividendo pericoli inenarrabili ma sempre con la coscienza di agire per una giusta causa, offrendo l'unica cosa che ci apparteneva, la vita, abbiamo sempre tenuto alto quell'ideale che ci ha portato a vincere. Perciò queste testimonianze sono preziosissime. Grazie a Livio e agli altri compagni e compagni resistenti oggi ci sono persone che continuano a non rassegnarsi e a non piegarsi all'indifferenza portando avanti i valori che ci hanno trasmesso. Ecco perché credo che, come dice la senatrice Liliana Segre, coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Grazie e buon 25 aprile.